Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono FaviJ E oggi siamo su Mama... no aspetta come cazzo Cookie Mama Mama Kills Animals Che sarebbe una roba poco violenta, ma veramente poco Vi faccio questa premessa perché bisogna farla all'inizio perché sennò È una versione di Cookie Mama fatta da un'associazione per far capire che mangiare gli animali è una cosa orribile Io ci gioco perché Mama ha gli occhi belli E quindi ragazzi hanno fatto questa versione di Cookie Mama un pochettino più violenta del solito Comunque ragazzi vediamo di cucinare come si deve... Allora io vi faccio vedere che la cucina made by FaviJ non muore mai Allora prepariamo il tacchino Spenna il tacchino, clicca sulle piume col tuo mouse per spennare il tacchino Vabbè questa cosa mi pi... che bello che... Devo spegnare il tacchino, ok Ragazzi mi sembra una roba esageratamente stra... C'ho fatta? E la madonna, il bra... madonna Manco avessi infilato il braccio nella gigia di una col mestro Miner de mama E beh, perché... stai con chi stai parlando zia Il tacchino è spennato ragazzi Adesso remove... remove? Ah, rimuovi gli organi interni E la madonna Utilizzando il tuo mouse rimuovi gli organi interni e va bene Ma sei serio? Cosa devo fa... Oh mio dio Ma veramente... Allora, ascoltami Devo proprio filargli la mano nel culo Dopo una roba... ok Prendo una co... Oh capito Ho trovato Pikachu Questo invece... Ah, è finito Ah già c'è il tempo Che coglione Non essere un santo Come non essere un santo? Un santo in che se... Allora prendiamo ste robe e mettiamo... Ma che schifo Senti che bel rumore che c'è quando entra la mano Ah, sì Ragazzi, oh mio dio È caduto un polmone Il fegato Ce l'ho fatta Ho vinto Sì cazzo Tu nice Grazie zia Ebbè ma ovvio Sono un cuoconato ragazzi Non ce l'ha neanche bisogno di specificarlo Cioè è stata veramente una cosa... Cos'è? Stufato di tacchino Adesso ho sbloccato lo stufato di tacchino Fantastico Crack di eggs Rompi le uova Vabbè rompiamo le uova Vabbè questo... Questo lo so fare Questo credo di saperlo fa... Scusatemi ragazzi Ma mi diverto a farse cagate Quando rompo le uova È una roba... Sì Sono uscite delle piume Da un uo... Cosa? Minchia ma... Che... Che cazzo di uova dovrebbero essere? No no cazzo Il tempo Il tempo Il tempo Sono uova col mestru ragazzi Le classiche uova col mestru Sono normali Succede così Ascolta zia Che cazzo di uova hai comprato? Fammi capire Vabbè Non aprirò mai più un uovo in vita mia Mixa gli ingredienti Inserisci gli ingredienti Sì Magari la prossima volta compra delle uova decenti Non è possibile Così? Il burro Che bello Che è il burro più bello che abbia mai visto nella mia vita Sembra un cubo di rubik ragazzi Adesso mischio Eh vai Vai così Giro Madonna di come Non gira un cazzo Eh non gira un cazzo Che devo fare? Non è colpa mia se non... Cos'è? Oh mio dio Oh mio dio che gnocco Oh mio dio Vabbè basta Come cazzo ho fatto? Ok perfetto La rifacciamo sta cosa Io non è che muovo il mouse e non mischia un cazzo Non è colpa mia Io ci provo ma non funziona Tanto che merda sto mettendo Nel tosto Spiegatelo Ok Un altro Un altro Bravo Ragazzi ce la sto facendo È incred... Sì Che bello merda Madonna che cuoco Che cuoco Miner de mama Rimpizza il tacchino Ah devo mettere la sbobba dentro il deretano del tacchino Ma fanta... Poetico Devo proprio trascinare la merda Perfetto Che be... Che bello aspetto che c'ha Madonna lo mangerei tre volte Buono Aspetta che arriva l'aeroplanino Eccolo Anche... Che merda Ragazzi ho cucinato la cosa più schifo Miner de mama Grazie zia Taglia la testa Sì serio Devo tagliar... Devo tagliar la testa Ma che schifo Ma no dai ragazzi Ma seriamente È bruttissimo Ma almeno un taglionetto Cazzo Non così E vabbè E vabbè Non ci sono riuscito Non sono capace Va bene Non essere un santo Tua madre è un santo Ok È orribile Sì Eh eh Quelli sono i cavetti Quelli delle bombe Taglia il filo blu E il filo rosso E poi esplode il tacchino Turn on the oven Pressing the on button Devo premere l'on button Ah Devo premere sta cosa Ah si può Fantastico E quindi devo toccare lo scher... L'ho fatto bruciare Premi on Devo fermarlo qui Giusto Quindi premo off Quando arriva qua Ce l'ho fatta Miner Sì Grazie mamma Grazie mia Possiamo finire Complete Eh vabbè Dai tutti a tavola Che FabiJ ha cucinato Questa prelibatezza Manco cracco Queste cose Cioè io proprio Fuori classe proprio Modestamente potrei aprire Un ristorante Ed essere io Il cuoco master Ah adesso devo fare Il brodo di pollo Per condire Giusto Chop the neck Taglia il collo In che se Ma basta Sì senti Non sono capace A fare queste cose Tanto ecco Non è esploso Basta queste cose Mi fanno schifo Mi fa senso Ecco Basta Grazie Preferisco tagliare il formaggio Molto più easy Non è esploso comunque Cioè consiglio che vi salva la vita Tra il filo rosso e il filo blu Bisogna tagliarli entrambi E funziona Salted the body parts Prima cosa ragazzi Accendiamo il cuoco Il cuoco Il fuoco Volevo dire Cazzo dico Poi mettiamo il burro Perfetto che non è un burro Ma è un cubo di rubik Poi pezzi di collo Polmoni Fegato Un po' di merda Tutti insieme Poi condiamo con questa cosa Sporchiamo anche un po' la cucina Già che ci siamo E condiamo tutti insieme Poi la padella Merda Titana troia Cosa è successo Strain the gravy Cosa vuol dire Cos'è Ah mica che appetibile Ragazzi Mettici le tue mani l'erce dentro Bravissimo Mettici anche il pene Per condire bene Ah devo Devo portarle fuori Ste cose Sì Pulito Pulito Adesso è pulito Adesso è pulito Ovviamente se ci metti Della merda dentro E poi la togli È pulito Ma io ripeto zio Se metti il pene dentro Lo usi come mestolo Guarda che viene meglio Credimi Complete ragazzi Mica è fantastico Se mangio questa roba Muoro Ma muoro anche male È stata l'esperienza culinaria Più bella della mia vita Grazie a te mamma Ha cambiato idea Ha cambiato È vegana È diventata vegana Ma no E beh ma come cucino io Ti passa la voglia anche di vivere Quindi va bene Hai sbloccato il nuovo livello Mamma love animals Ma come Che gioco è questo Mamma love animals Cos'è Ah è cucina vegana Ragazzi Passiamo al vegano Cucino io Gira il tofu Ragazzi sono un fenomeno Una bella ravanata dei pantaloni Perfetto così Bravo zio Adesso tocca Tutto il tofu Perfetto Vai così Ho palpato un tofu La mia vita è completa Better than mama Il pene che dà il gusto Fantastico Andiamo avanti ragazzi Perché sta Shape the tofu turkey Dove devo fa' Devo Devo armalgamarla Tutte insieme Perfetto Ma è un pokemon Si sta evolvendo Cazzo Cos'è sta roba Ragazzi è gulpin È un pokemon Paste the tofu turkey Ah devo cucinare Devo Che cosa vuol dire Ah è proprio Diarrea Che devo spargere Sul Ok Col contagocce Col contagocce Adesso sta diventando Più pokemon Di prima Ce l'ho fatta Better than mama Grazie zia Ragazzi Ratatouille Una merda In confronto Better than mama Per qua Madonna ho fatto La vita Sono un fenomeno Comunque ragazzi Cos'è oh mio dio È la madonna Adesso mi Because of you Mama lo venimos È la madonna Che ne sono troppo contento Oh ma che carino Pucci pucci Quel tacchino così Ma non lo sai che prima Ti ho tagliato il collo In quattro modi diversi Vuoi non sembrare così Mongoloide mama Muovere la testa così Per cortesia È stato meraviglioso Cucinare per voi Avete capito Quanto io sia bravo Nell'arte culinaria Andiamo ragazzi Proposta incredibile Andiamo a far picnic Tutti quanti insieme Tutti nel parco Cucino io Cucino io Faccio sta cosa Che è il mio piatto forte Comunque ragazzi Questo era Mama kill animals Perché sono una brava persona Molto molto sexy Guarda qua Guarda che sguardo incredibile Guarda che Mi sto perdendo Nel mio naso Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto E come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Anche la pagina di facebook E come nei video Trovate nella descrizione Per ogni mi piace Che mettete al video Un ball over Un tacchino Io non sono capace Di distinguere gli animali Verrà salvato In più c'è anche Un pokemon in omaggio Se non è stato così Iscrivetevi e ci rivediamo Un prossimo video Bella ragazzi Ciao